In un mondo di auto tutte uguali, costruite allo stesso modo, una sola 2000 riveste con radica di noce e vero cuoio, la raffinata tecnologia di un motore bialbero a 16 valvole. Non comprate un'altra auto prima di aver provato una Rover. Rover 2000, la Gran Turismo da 26 milioni. La Gran Turismo da 26 milioni.